Il momento della morte. 2 novembre 1977. Fratelli miei, sia pace a voi. Da molto tempo non vi rivolgo la mia parola, ma io non cesso mai di proteggervi e di ottenervi grazie ed aiuto. Voglio oggi ricordarvi la cosa più importante della vostra vita, da cui dipende tutta l'eternità. Voglio ricordarvi il momento cruciale della morte. Voi sapete come fu serena la mia morte, che avvenne fra le braccia di Gesù e Maria. Ma a questa morte desiderabile deve ogni cristiano prepararsi con una vita santa. Tutta la vita deve essere una preparazione a quel momento. La morte può essere subitanea, violenta o serena. Ma nessuna cosa può spaventare, quando nell'anima vi è il dolce ospite, al quale potete affidarvi con piena fiducia. La vita presenta delle incognite. Voi non sapete a quale età morirete. Per esempio. Non sapete se morirete nel vostro letto, oppure per la strada, o fuori di casa, ma essa presenta pure delle certezze. Voi sapete che chi ben vive, ben muore. Potete perciò essere certi che, vivendo in grazia di Dio, avrete diritto al Paradiso. A questa certezza dovete dedicare tutta la vostra attenzione. Il resto è nulla. Conservare la grazia, con la fuga del peccato e l'osservanza della legge di Dio, è il passo più importante. Poi viene la pratica del bene, poiché il Signore non vuole soltanto la fuga del male, ma che il cristiano si arricchisca di opere buone. Quando però un'anima vive in grazia di Dio, tutto ciò che fa, sia per vocazione come per professione, come nell'adempimento dei doveri del proprio Stato, diventa prezioso. Manca solo l'indirizzo alla bellissima lettera che in tal modo l'anima scrive per avvalorare maggiormente le opere. E l'indirizzo voi lo mettete quando, all'inizio della vostra giornata, offrite a Dio tutto ciò che la riempirà. Ora, provate a pensare quanto pochi sono i cristiani che vivono pensando a ciò che li attende e indirizzando a Dio le proprie opere. Pensate ancora quante persone impreparate si presentano al tribunale di Dio, senza rendersi conto della severità del suo giudizio. Quanti malati, anche di mali che non perdonano, hanno desiderio di guarire, o di morire per farla finita con la sofferenza. E non pensano alla vita futura. Se poi tenete conto che, in quel momento così difficile della separazione dell'anima dal corpo, il demonio con particolare astuzia e forza cerca di dare pensieri di ribellione e di disperazione. Voi vedete subito quanto sia necessario aiutare quelle anime con la preghiera e, quando è possibile, farsi capire con le buone parole. Pensate, fratelli, quanti battezzati, dopo aver rifiutato la fede e la grazia per tutta la vita, si trovano di fronte alla realtà della morte. Qui occorre veramente una grazia efficace, come quella che atterrò Saulo sulla via di Damasco. Ma chi otterrà questo aiuto, se non la preghiera dei buoni? Ebbene, voi sapete che la misericordia di Dio è infinita. Ma anche la sua giustizia è infinita. Perciò pensate, quando anche migliaia e migliaia di anime avessero ottenuto il dono della salvezza, quanto purgatorio spetta a loro. Per tutti gli anni in cui vissero lontani da Dio rifiutando lo Spirito Santo, dovranno rimanere a soffrire in purgatorio. Una sola preghiera, fatta da coloro che sono in punto di morte, potrebbe aprire immediatamente le porte del Paradiso. Un atto d'amore perfetto, come fu quello del buon ladrone, o il dolore perfetto della Maddalena che, piangendo i suoi peccati, bagnava con le lacrime i piedi del Salvatore. Il dolore e l'amore perfetto sono grazie grandi di Dio, che voi dovete chiedere ogni giorno per voi e per tutti i morenti. La mia assistenza è valida perché io svolgo la mia opera prima che avvenga la catastrofe, suscitando pensieri di fede. Questo vi spiega perché, anime che non hanno amato Dio, morte forse di morte improvvisa, si sono salvate. Qualche volta, anche all'insaputa dei parenti, io le richiamo a pensieri di fede e di pentimento dei peccati. Fratelli, sappiate che il purgatorio è la casa dell'amore nel dolore. Una sofferenza indicibile purifica quelle anime, che voi potete alleviare e rendere efficace anche per voi. Non dimenticate le anime purganti. Esse saranno le vostre migliori amiche, a cui potrete affidare i vostri interessi materiali e spirituali. La preghiera di chi soffre è potente presso Dio, sia che provenga da coloro che sono sulla terra, come da parte di quelle anime sante. Sia veramente una comunione dei santi. La vostra. Date. E vi sarà dato. Date preghiere e sofferenze. E riceverete aiuti insperati e preziosi. Vi benedico in nome di Dio e della Santissima Vergine. Mia sposa. Siate fedeli a questi incontri. riceverete grazie a non finire.